Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati come sempre qua nel disordine della mia libreria. Allora, torniamo a usare questo magnifico volume fotografico di Luigino Cagliaro intitolato Legendary Werebirds. Ne ho già parlato più di una volta e credo che sia d'obbligo usarlo di nuovo perché questa volta vi parlo di una assoluta leggenda dell'aviazione, di una pietra migliare della storia dell'aviazione, ovvero sia il Boeing B-17 Flying Fortress, la fortezza volante. Eccolo qui. Questi sono, è uno degli esemplari tuttora volanti del B-17. Ripeto, il B-17 assolutamente un grande classico dell'aviazione, il B-17 una delle armi definitive per la vittoria alleata sul teatro europeo. Un bombardiere quadrimotore, un bombardiere pesante, quadrimotore strategico, indubbiamente affidabile, indubbiamente ben riuscito, indubbiamente uno, una delle armi decisive, poco ma sicuro, per la vittoria alleata sul fronte europeo. Un aereo incredibilmente massiccio, incredibilmente robusto, amatissimo dagli equipaggi perché oggettivamente era di una robustezza quasi a prova di bomba. Se fate un giretto su internet troverete le foto di B-17 fatti letteralmente a pezzi dalla contraerea, dalle cannonate dei caccia nemici. Addirittura c'è la foto di un B-17 speronato da un caccia tedesco, tranciato quasi a metà, che è tornato con i suoi mezzi in Inghilterra. Insomma, era un aereo la cui robustezza era proverbiale, un aereo la cui robustezza era assolutamente a prova di bomba. Questo sarebbe il Treviste, il Treviste della Fortezza Volante. Eccolo qui. Insomma, la Flying Fortress, la Fortezza Volante, che in questo nome è praticamente concentrata tutta la leggenda, tutto il mito che caratterizzano l'attività bellica del Boeing B-17, che, ripeto, è l'aereo che forse più di ogni altro ha rappresentato la potenza della macchina bellica americana sui cieli europei durante il secondo conflitto mondiale. Allora, ne furono costruiti 12.731, complessivamente e ininterrottamente per tutta la durata del conflitto. E questi aerei hanno realmente fatto la storia. A partire dal 17 agosto del 1942 iniziarono i bombardamenti diurni sull'Europa e dal 27 gennaio del 1943 quelli sul territorio della Germania, intervallando i propri attacchi a quelli notturni condotti dai quadrimotori della Royal Air Force. Incursioni come quelle su Wilhelmshaven, Schweinfurt, Weiner Neustadt, Regensburg, Berlino sono alcune, sono solo alcune delle missioni più tristemente note, alcuni degli obiettivi più famosi di questi aerei. Quelli che videro in pratica i cieli europei gremiti da centinaia e centinaia di bombardieri disposti nelle cosiddette formazioni a scatola, nelle cosiddette boxes, con l'inferno della contraerea, con gli aerei tedeschi che attaccavano, insomma, una macchina che ha veramente significato come poche altre, che ha dato l'immagine come poche altre della potenza bellica americana. Il B-17, questa è una dispensa dei grandi aerei storici del maggio 2005, il numero 16, eccolo qui, e dicevo, il Boeing B-17 è un aereo eccezionale per capacità bellica, per robustezza, per prestazioni, per affidabilità. Eccone qua uno spaccato, insomma, siamo sinceri. 12.000 e passa bombardieri B-17 quando noi facevamo fatica a costruire 30 Piaggio P-108, insomma, scusate, 30 Piaggio P-108 nello stesso periodo in cui gli americani ne costruivano 12.000. Vabbè, ecco, questo è un altro spaccato del B-17. Un aereo, ripeto, assolutamente mitico, assolutamente leggendario, un aereo che ha veramente contribuito in maniera indiscutibile a far vincere la guerra agli alleati. Un aereo, ripeto, un aereo estremamente affidabile, molto amato dai piloti, perché era veramente, si può dire, a prova di bomba, un aereo che anche negli avversari suscitava un certo timore reverenziale. Eccone qua alcuni in volo sui cieli tedeschi. Cosa dire del Boeing B-17? Vedete, cosa dire della fortezza volante? Ne sono già state dette tante. Cioè, un aereo famoso, un aereo celebro, un aereo celebrato, cioè la storia del B-17 è conosciuta da tutti, cioè la nascita, lo sviluppo, il durissimo servizio sui cieli europei, sono praticamente noti a tutti gli appassionati di aviazione e di storia della Seconda Guerra Mondiale. Eccone qua un altro esemplare. Un aereo che ha incarnato alla perfezione il concetto stesso di bombardiere strategico. E questo è una cosa molto importante. Allora, cioè tutti, allora, ripeto, più o meno tutti voi conoscete le prestazioni, le vicende, la storia del Boeing B-17. Effettivamente è impossibile non conoscerla per chiunque segua un pochino la storia della Seconda Guerra Mondiale. Ma c'è una cosa che molti trascurano, la concezione stessa del bombardamento strategico. Sentiamo un po' sempre da questa dispensa della Delta Editrice che cosa ci dice Giorgio Gibertini a proposito della concezione di bombardamento strategico. È un breve articolo, molto interessante. Quindi, cari signori, sturatevi le orecchiette perché ci sarà da discutere. Allora, ascoltate bene. Il bombardamento strategico è una missione che ha destato, da quando esiste l'aviazione, l'attenzione dei teorizzatori, il più famoso dei quali fu l'italiano Giulio Duhè. Il suo maggiore sviluppo, tuttavia, si è avuto negli Stati Uniti e si potrebbe dire che forse non ci sarebbe stato bombardamento strategico senza la Boeing. Prestate bene orecchio. In effetti, la missione di bombardamento strategico è una missione di tipo maturo, possibile solo con aeroplani molto efficienti ed affidabili. Aeroplani molto efficienti ed affidabili. che avevano, oggettivamente, soltanto inglesi e americani. Perché se vi sembrano affidabili come bombardieri strategici il nostro Piaggio P-108 o il tedesco Heinkel HE-177 Greif, insomma, non ci siamo. Ok? Durante la Seconda Guerra Mondiale, al di là delle diverse concezioni degli stati maggiori, furono solamente le industrie aeronautiche degli Stati Uniti con B-17, B-24 e con quell'astronave del B-29 e della Gran Bretagna con Halifax, Lancaster e Stirling a essere in grado di produrre dei veri bombardieri pesanti. Così come la US Army Air Force e la Royal Air Force furono le uniche forze aeree in grado di utilizzarli proficuamente. Perché? Perché, ripeto, l'industria italiana, l'industria giapponese, l'industria tedesca non furono mai in grado di rendere mature e affidabili le macchine che avevano prodotto come bombardieri strategici. Chiaro? Ci provammo noi e fu un disastro col Pi-108. Ci provarono i tedeschi, fu un disastro con l'Henkel 177 Greif. Ci provarono anche i giapponesi, ma i loro progetti di bombardieri strategici non videro praticamente mai la luce. Ok? Allora, ad esempio, e qui tocchiamo le due lentinote, ad esempio, una realizzazione analoga a quelle americane e inglesi fu il Piaggio P-108 che nacque in Italia, ma le sue prestazioni eccellenti sulla carta crollavano miseramente sul piano operativo. Perché? Perché più in generale si può dire che quella del bombardiere pesante era ed è una tecnologia tra virgolette ricca che può essere affrontata solamente da costruttori di cellule che possono contare su motori, impiantistica, accessori ed armamenti di alto livello. vi ripeto il concetto signori. Quella del bombardiere pesante era ed è una tecnologia che può essere affrontata solamente da costruttori di cellule che possano contare su motori, impiantistica, accessori ed armamenti di alto livello. Il Piaggio P-108 e lo Enkel 177 Greif. Credo che la mia faccia dica tutto, ma vabbè. Poi dicono che sono cattivo. Comunque sia. Durante la seconda guerra mondiale in un grande quadrimotori tutti questi elementi erano richiesti in misura maggiore rispetto alle esigenze di un caccia o di un aereo d'attacco al suolo e la produzione in serie di un bombardiere diventava impensabile se tutto ciò non era disponibile in quantità adeguata ovvero sia cellule efficienti robuste adattabili affidabili motori impiantistica accessori ed armamenti ancora più di alta qualità. Quando la US Army Air Force e la Royal Air Force iniziarono la loro campagna di bombardamenti sull'Europa si crearono subito diverse scuole di pensiero e non mancarono le polemiche anche accese tra i loro fautori. La Royal Air Force ritenne inaccettabile la percentuale delle perdite a causa della caccia nemica per cui fin dall'inizio intese il bombardamento strategico come una missione notturna continuando ad aderire a questa impostazione ancora durante la campagna di Suez del 1956. Però l'attacco notturno comportava maggiori difficoltà nell'identificazione dei bersagli e una minore precisione. Per questo motivo gli americani invece preferirono le operazioni diurne. Per la US Army Air Force la possibilità di compiere missioni coronate da successo era legata alla disponibilità di caccia di scorta che contribuissero a tenere impegnata la difesa aerea nemica dato che l'autodifesa nonostante il ricorso ad un armamento molto pesante e a sofisticate formazioni intese a fornire il massimo volume di fuoco in tutte le direzioni le cosiddette combat boxes questa cosa non era sufficientemente garantita. Allora il primo intervento massiccio fu il 17 agosto del 43 con l'attacco alle fabbriche di cuscinetti a sfere di Schweinfurt quando furono mobilitati 376 quadrimotori dei quali 60 non rientrarono alla base. Allora alle missioni presero parte i P38 P47 e P51 ma in particolare furono i Thunderbolt che dotati di serbatoi supplementari si dimostrarono in grado di fornire la scorta per tutta la durata delle missioni o per una parte sostanziale di esse. Sul fronte del Pacifico B17 e B24 furono prima affiancati e poi sostituiti dai B29 ma nel teatro occidentale i Fortress costituirono sempre una presenza rilevante oltre a disporre di una scorta sempre più efficiente i bombardieri potevano essere inviati contro gli obiettivi tedeschi in numero crescente e all'inizio del 1945 l'ottava Air Force arrivò a mandare in volo anche 1500 bombardieri per volta e in aprile ci furono le massicce azioni su Berlino Magdeburgo Chemnitz e Dresda i cui effetti cumulativi in termine di vittime e distruzione non furono inferiori a quelli dei bombardamenti nucleari sul Giappone dell'agosto successivo e ricordiamoci una cosa se la Germania avesse resistito ancora cinque o sei mesi l'atomica su Berlino era già garantita e pronta ok la valutazione dei danni inferti al nemico e degli effetti sull'andamento generale delle operazioni non ha trovato sicuramente concordi tutti gli storici che manifestano pareri anche molto discordanti si va da quelli che definiscono il bombardamento strategico come atto di terrorismo o di guerra psicologica per minare il morale della popolazione civile e fare pressione sui governi per arrivare a chi ha affermato che la vittoria sulla Germania in Europa e quella sul Giappone in Asia non sarebbero state possibili senza i quadrimotori da bombardamento e oggettivamente è tutt'altro che campata in aria quest'ultima teoria ok probabilmente però ci dice Sgarlato come scusate Gibertini probabilmente come sempre la verità sta nel mezzo perché se è vero che nessuna bomba convenzionale è in grado di distruggere completamente ogni tipo di obiettivo di rilevante importanza strategica è altrettanto vero che nessuna popolazione è in grado di sopportare un'azione ripetuta e martellante contro i suoi centri produttivi contro le vie di comunicazione e contro i grandi insediamenti urbani allora nel dopoguerra lo strategic air command ha portato avanti la sua filosofia richiedendo macchine che al B-17 e al B-24 dovevano molto il B-50 il B-36 il B-47 il B-52 una politica analoga è stata seguita anche nell'Unione Sovietica e la VVS ha in linea ancora oggi bombardieri che si possono definire di scuola americana al contrario tutte le altre forze aeree hanno dovuto rinunciare a questa specialità a causa dei costi crescenti oggi sia pure con minore autonomia gli aerei d'attacco al suolo e da interdizione offrono possibilità di carico bellico uguali e in molti casi ben superiori a quelle che aveva il B-17 ed anche in questi motivi si trova la causa del declino del bombardamento strategico insomma il bombardiere strategico eccolo qua il bombardiere strategico la fortezza volante americana il Boeing B-17 uno dei fattori chiave uno dei fattori chiave della vittoria alleata contro la Germania di Hitler eccoli qui e tra l'altro come dire il Boeing B-17 ripeto fu un aereo amatissimo un aereo che ha contribuito in maniera indiscutibile alla vittoria alleata in Europa c'è una cosa molti mi chiedono ma perché i russi non misero mai in servizio bombardieri strategici è semplice perché diciamo due motivi contingenti uno la guerra sul fronte russo fu essenzialmente una guerra combattuta diciamo in condizioni spaventose e con esigenze ben precise caccia che funzionavano bene a bassa quota aerei d'attacco al suolo bombardieri tattici perché perché tutto sommato alla russia sovietica a stalin non serviva certo un'aviazione strategica a quello ci pensavano gli americani e gli inglesi così come gli americani e gli inglesi non avevano sicuramente bisogno di un grande esercito di terra perché perché l'esercito di terra della coalizione alleata era l'armata rossa tutto qua e ricordiamoci lo spaventoso carnaio che fu il fronte russo ma ecco un'altra foto del muso del Boeing B-17 della fortezza volante e queste sono tanto per darvi un'idea delle condizioni in cui operavano li vedete i scopi della contraerea bello eh immaginatevi cosa voleva dire a proposito a proposito di scie chimiche un tempo gli aerei non emettevano scie chimiche si diceva qualcuno diceva ma nel frattempo Stracker puppa ma questa è una cosa per pochi eletti il fatto è semplicemente questo il Boeing B-17 come è stato spiegato nell'articolo conclusivo di questa monografia il bombardiere strategico quadrimotore pesante è un sistema d'arma complesso estremamente complesso è un sistema d'arma ricco per paesi ricchi i paesi poveri vedi Italia più che costruire piccole serie più che costruire poche cose non erano fisicamente in grado perché ripeto una macchina così grande una macchina così grande così complessa così diciamo complicata perché insomma vi lascio immaginare un quadrimotore che cosa vuol dire costruirlo che cosa vuol dire metterlo in servizio ok dicevo un sistema d'arma quello del bombardiere strategico che oggettivamente è ormai appannaggio solo dei paesi cosiddetti ricchi perché si tratta di un sistema d'arma che necessita di potenza robustezza potenza dei motori robustezza della struttura autonomia e mettiamola così carico bellico pagante e oggettivamente l'asse non fu mai in grado di mettere in servizio qualche cosa anche solo di lontanamente paragonabile a questo guardate che roba quindi cari signori io non posso far altro che raccomandarvi come sempre di scrivere i vostri commenti sul insomma di scrivere i vostri commenti a questo video aspetto come sempre le vostre considerazioni le vostre aggiunte le vostre analisi e come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao